Ehi tu, si dico proprio a te che stai guardando questo video vorresti vedermi su youtube nel quale scavo, costruisco, cerco diamanti e faccio tutte le altre cose che farebbero un giocatore normale di Minecraft magari si, o magari no, o magari potresti dirvi tu, che ne dici? ci stai o non ci stai?